Alla taverna degli artisti iniziano le serate a tema con i sapori delle regioni. La prima, giovedì 5 dicembre, sarà dedicata ai sapori dal Piemonte. Saranno serviti fagioli e lastigiana, uovo di quaglia all'occhio di bue con brie e scaglie di tartufo bianco di alba, riso carnaroli superfino al Castelmagno e nocciole piemontesi, al profumo di tartufo nero, filetto di bue alla piemontese con riduzione di barolo, pesche e ripieni al forno. A ogni piatto sarà abbinato un vino piemontese. Prezzo speciale per gli amici della taverna degli artisti. Prenotazioni e info 0541 28 519